In attesa di ritrovare tutti i calciatori dagli impegni con le loro nazionali, la Salernitana si ritrova quest'oggi al centro sportivo Mary Rose. I Granata iniziano una sette giorni di allenamenti che porterà la importantissima sfida Salvezza di Domenica a casa dello Spezia. Paolo Sosa predica calma ma sa che il campionato della Salernitana è in un momento cruciale. Gli otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, le ultime buone prestazioni sono un tassello importante ma non ancora definitivo per ottenere l'obiettivo stagionale. Il tecnico negli ultimi giorni ha testato una tattica più offensiva nel tentativo di ottimizzare un bel gioco che ancora latita sotto l'aspetto realizzativo. Se sarà esperimento estemporaneo o concreto lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Nella testa del portoghese però sembrerebbe esserci l'idea di lanciare al picco Dia e Piontech insieme. Dal primo minuto una coppia finora vista soltanto a gara in corso e in fasi concitate in cui serviva affondare il colpo. Se però il polacco continua a digiunare sotto rete è totalmente agli antipodi la vena realizzativa del senegalese. L'ex Villareal già in doppia cifra in Serie A è andato in gol anche con la sua nazionale nel weekend ed è stato autore di una prestazione maiuscola contro il Mozambico. È un calciatore assolutamente completo, il fiuto del gol è una delle sue caratteristiche principali e sono certo del fatto che abbia enormi margini di miglioramento. Queste le parole del CT senegalese agli UCC nel post-gara. Parole che esaltano ulteriormente l'attaccante e fanno gongolare i vertici societari Granata. La Salernitana per riscattarlo dovrà sborsare soltanto 12 milioni di euro entro il 30 giugno, una cifra irrisoria alla luce delle prestazioni del calciatore e i prezzi che circolano per gli attaccanti internazionali.